Stamattina gli studenti del liceo classico Ruggero VII sono tornati in classe grazie all'interessamento del prefetto Cosima di Stani. Sono state riallacciate così le utenze. Il liceo classico era stata l'unica scuola alla quale i tagli sono stati eseguiti e ancora nessun altro era successo. Dopo due giorni di riunioni con Wurz al tavolo prefettizio, venerdì sera si è raggiunto un accordo. La direttiva è stata ritirata e l'assessore regionale Roberto Lagalla, rappresentato al tavolo dal suo dirigente Salvatore Taormina, si è impegnato a convocare un tavolo urgente, come aveva detto in un comunicato stampa il giorno prima, tra le parti, ovvero regione, assessorato alla scuola e commissari dei liberi consorsi per aumentare i trasferimenti in sede di bilancio. Dalla regione agli enti saranno intanto trasferiti 20 milioni di euro, la somma che verrà predisposta in bilancio, ma non solo per le scuole. I commissari così auspicano un aumento delle somme. Intanto gli studenti diversamente abili, sono 160 in provincia, non torneranno invece a scuola a causa del mancato rinnovo dei servizi a loro favore, la ASACOM, l'assistenza igienico-sanitaria personale ed il trasporto. Dopo l'appello della rappresentante dei genitori, Maria Grazia Pignataro, è arrivata la risposta dell'assessore Marielle Polito, che ha ribadito che i fondi ci sono, sono 9 milioni di euro. L'incognita arresta se è stato fatto un impegno di spesa, dubbio che sarà dissipato nelle prossime ore.